E la copertina di oggi va al petrolio, in questo momento segna meno 4%, era il 25 di maggio quando il principe Abdullaziz Bin Salman avvisava gli short seller, statevi attenti, attenzione perché potremmo procedere con altri tagli della produzione e vi scotterete le mani se tentate di shortare e di far cadere i prezzi che noi vogliamo, questo non è scritto nell'articolo però lo sappiamo da altre fonti, vogliamo vedere in area 80 dollari, ecco risposta del mercato, un ribasso negli ultimi 3 giorni, vedete 3 candele nere consecutive l'avevamo detto un paio di giorni fa che dal punto di vista tecnico era evidente che si riproponeva il test dei supporti in area 65 ci stiamo avvicinando, oggi siamo a 67 e 50, fatto salvo che poi il principe non dia seguito agli avvisi che aveva anticipato qualche giorno fa da un punto di vista tecnico era il 26 di aprile quando avevamo visto che dal punto di vista tecnico il petrolio aveva annullato già i tagli alla produzione precedenti quando aveva chiuso, perché poi noi parliamo di analisi tecnica aveva chiuso questo gap, questo era il gap degli tagli della produzione a sorpresa era il 26 di aprile con questa candela che sto segnalando quando veniva chiuso il gap e di fatto già qua si era capito che stavano prevalendo altri fattori, altri fattori in particolare quali sono questi fattori che ecco quindi il prese del petrolio sfidano i tagli sauditi in quanto gli investitori in questo momento si stanno focalizzando sui nuvoloni neri che incombono sull'economia, cioè sul fatto che a causa di un rallentamento dell'economia c'è probabilmente già in corso un calo della domanda che di fatto più che compensa i tagli alla produzione annunciati e realizzati dai vari protagonisti di questo mercato e quindi questo è un segnale tecnico importante, prossimo test area 65 tutto il settore energia è debole, il TTF meno 6 un amico chiedeva di guardare il gas naturale per guardare il gas naturale dobbiamo passare su scala logaritmica dobbiamo aprire, anzi guardiamolo direttamente con il grafico lineare in modo da comprimere un po' meglio questo andamento veramente incredibile di quest'anno dove nel giro di due mesi siamo scesi da area 7 fino ai minimi in area 2 con un ribasso importantissimo che possiamo quantificare appunto da questo massimo relativo di dicembre fino al minimo di febbraio quindi nel giro di soli due mesi meno 68% queste sono discese come diciamo tante volte si sale per le scale e si scende con l'ascensore voi pensate che in soli due mesi qui sono state intrappolate le posizioni a rialzo aperte da aprile 2021 fino ai massimi di agosto 2022 quindi stiamo parlando a occhio e croce 16-17 mesi che sono stati messi in difficoltà con una discesa di due mesi soltanto e quindi in questo momento questa discesa così veloce che ha intrappolato una valanga di posizioni rende difficile qualsiasi tentativo di rimbalzo perché appena i prezzi tornano verso guardate la volatilità di stop line sta lavorando molto bene in questo periodo appena i prezzi tornano verso la volatilità di stop line che fa da resistenza riemergono le vendite e si riparte verso il basso verso il test di quest'area che fino a questo momento ha tenuto 2-1 anche se nella realtà il supporto più forte è più in basso e in area 2 siamo a 2-27 un 10% più sotto diciamo questa è una fascia di supporto quella fra 2-2-1 che rimarrei molto sorpreso se dovesse essere bucata al ribasso è più probabile che il gas ricominci una lunga fase come quelle che ha avuto nel passato di andamenti laterali che però comunque possono anche vedere i prezzi oscillare parecchio perché questo è uno strumento molto volatile che in passato ha le sue performance del 30-40-50% soltanto quando va semplicemente a rivisitare le parti alte e le parti basse dei trading range che ingaggia ecco tutto il resto io direi sospendiamolo fino a domani nonostante qui si vedono molti segni verdi però sono tutti frazionali più 0,3 in questo momento segna in genere l'America aspettiamo domani perché domani ci sono gli importanti dati sull'inflazione il mercato si sta avvicinando a questa scadenza con una grande euforia extreme grid 78 questi sono segnali che dal punto di vista di sentiment in passato hanno marcato dei top vediamo se questa volta sarà così torniamo al grafico a candele per mostrare il VIX avevamo intitolato il video di venerdì chi non l'avesse visto può andarselo a vedere VIX in relax perché cosa voleva dire? voleva dire che abbiamo dei valori molto molto bassi di VIX abbiamo registrato valori di VIX che sono andati su livelli più bassi rispetto a quelli della pre-pandemia e quindi questo è un segnale di grande rilassatezza di grande tranquillità oggi più 5,92 quindi forse qualcosa sta cambiando però ecco diciamo aspettiamo domani per vedere quello che succederà con i dati sull'inflazione perché in base a questi dati visto che la banca centrale americana ha detto che è data dependent quindi non ha annunciato per certo dei rialzi dei tassi questa settimana ma ha detto che avrebbe guardato a quelli che sarebbero stati i dati economici e i dati sull'inflazione sono fra i dati principali che la banca centrale finora ha guardato quindi lascerei stare anche questo più 5 anche se in effetti si comincia a vedere che probabilmente almeno oggi qualcuno sta andando a far leva sui prezzi delle opzioni vi ricordo che il VIX è calcolato appunto sulla volatilità implicita espressa dalle opzioni dell'S&P 500 quindi tutto il resto direi che più o meno stazionario non abbiamo grosse variazioni e comunque non abbiamo grossi segnali tecnici neanche dai rendimenti e neanche dai cross principali almeno quelli che seguiamo continuerei quindi con le richieste veniamo al mercato italiano ecco però per guardare le richieste un piccolo accorgimento passerei sulla scala lineare oggi ce li guardiamo sulla scala lineare visto che l'abbiamo visto sul gas scala lineare e poi visto che andiamo un attimino a comprimere per vedere la situazione dall'alto toglierei la visualizzazione del DMI plus e minus resterei solo con la DX cioè con l'indicatore di direzionalità molto importante Ferrari che in questo momento credo sia il secondo titolo per capitalizzazione ha superato ENI sul listino italiano un andamento al rialzo, un'estensione importante che è partita nel mese di dicembre ma ha avuto un seguito importante nel mese di marzo cosa c'è che non va in questa fase? allora da un punto di vista tecnico i prezzi sono ben impostati perché viaggiano in modo parallelo diciamo è riuscito a mantenere quello che era una distanza notevole dalla media 200 però ecco questo è comunque un qualcosa che nel passato poi ha portato a dei pullback tutte le volte guardate la distanza dalla media 200 dei picchi dei prezzi grossomodo quando abbiamo una distanza ecco questa cosa è 2,16 un 50 euro di stacco quindi qua 2,36 300 qui siamo ben oltre possiamo vederlo anche da un punto di vista percentuale con un grafico percentuale comunque non ha importanza diciamo che questo è un titolo che quando si allontana più o meno di queste grandezze dalla media 200 poi registra dei pullback questo non è avvenuto in questa fase in questa fase diciamo dal mese di febbraio in poi il titolo ha cominciato a viaggiare parallelamente alla media 200 senza sentire il bisogno di andarla a ritestare cosa c'è che non va? che la direzionalità nel frattempo è andata spegnendosi quindi in questo momento sotto 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 i bear stanno cominciando a rientrare in azione o comunque i bull hanno perso di aggressività perché questo è un po' il significato dell'indicatore tecnico gli indicatori non è che sono così appesi per aria e vivono di vita propria c'è dietro il comportamento degli operatori quindi è molto importante sapere gli indicatori come sono costruiti cosa c'è dietro qual è il significato delle formule con cui sono costruiti ecco quindi questa è una situazione dal punto di vista tecnico che io direi accompagnerei anche con una valutazione dei volumi guardate i volumi la media 20 adesso qua si vede un po' vediamo se riusciamo ad aumentare un attimo la visibilità della media 20 visto che il grafico è molto compresso ecco guardate la media 20 come sta rollando verso il basso significa che man mano che i prezzi crescono diminuisce la partecipazione degli operatori quindi come quando questo avviene in qualsiasi mercato quando i prezzi sono troppo alti o troppo bassi tra virgolette o sparisce la domanda o sparisce l'offerta perché se il prezzo è troppo alto la domanda si ritira quindi c'è meno interesse da parte degli operatori a partecipare a un mercato a questi livelli se poi ci andiamo a vedere che Ferrari comunque è un titolo valutato molto generosamente dai suoi multipli io direi attenzione a questi livelli mi aspetterei appunto questo famoso pullback che ormai è dovuto più da diverse settimane ecco un pullback che non è detto che sia a piombo come è stato disegnato questo semplicemente serviva per misurare l'altezza però una fase correttiva sarebbe nell'ordine delle cose allora l'altra richiesta riguarda Nexi un titolo che avevamo visto in passato una discesa molto pesante da area 20 fino a area 7 quindi un ribasso superiore al 50% Nexi sta formando un'ampia base ci sono dei segnali interessanti può darsi che questa base possa dare inizio a una fase rialzista con target io direi intanto area 8,4 8,8,4 cioè andare a vedere questa fascia di resistenza sopra la volatilità di stop line la media 200 e i vecchi minimi relativi che guardate qui hanno fatto molto bene prima hanno fatto molto bene da supporto e poi da resistenza nel tentativo successivo questa è stata una bull trap uscita verso l'alto rottura della media 200 nel mese di febbraio rientrata nel giro di pochi giorni e siamo ritornati a vedere i minimi ecco però in questa fase la DX non riesce più a prendere quota c'è stato un ultimo tentativo con un impulso qui con il tentativo di rompere i supporti nel mese di marzo e aprile dopodiché niente stiamo andando di lato questa potrebbe essere una fase di accumulazione attenzione a eventuali scherzetti sotto area 7 e 2 dove poi si potrebbe andare a vedere appunto se per caso dovessero ricominciare le vendite però per il momento mi sembra che non abbiamo queste evidenze verso l'alto il trigger sarebbe la rottura di area 7 e 7 dove passano i due massimi precedenti qua si innescherebbe verrebbe confermata questa diciamo possibile figura di reversal al storm uno dei principali titoli del mercato francese ecco qui abbiamo in corso un impulso negativo con pullback questo perché la direzionalità è aumentata notevolmente in questa fase di ribasso che sembrava avesse e diciamo dal punto di vista tecnico è ancora aperto questo scenario diciamo questo ribasso è stato di tipo impulsivo e ha messo fine a quella che è stata quello che è stato un abc correttivo di tutto il movimento ribassista precedente non starei a porre in questo momento troppa attenzione alla media 200 che si è leggermente ingrinata verso l'alto però fondamentalmente non c'è ancora un assetto bullish diciamo pienamente dal punto di vista tecnico valido rispetto a tutti i vari parametri che guardiamo quindi inclinazione delle medie posizionamento delle medie una rispetto all'altra e soprattutto i volumi che vedete anche qui da linea blu sono in fase di netto calo soprattutto durante l'ultima gamba rialzo questa qui che si sta andando a spegnere almeno così sembra sulle resistenze in area 28 se dovessimo superare 28 con volumi è un importante rientro degli investitori perché poi area 28 guardate qua ci passano sì 29,50 l'abbiamo tracciato più su ci sono i vecchi supporti che ora probabilmente fanno la resistenza direi che tutta dire l'amico che tutta questa fascia fra 29,50 e 28 è una fascia di resistenza molto importante personalmente io resterei molto sorpreso se dovesse attraversare il rialzo al primo colpo quindi attenzione al ribasso invece la fascia di supporto che ci aspettiamo che tenga è area 24 ci aspettiamo che tenga qualora dovesse confermarsi il fatto che qua c'è un reversal in corso un reversal che per il momento ripeto è molto sporco perché questo movimento al ribasso che si è chiuso il 20 di aprile è stato di tipo impulsivo altra richiesta è Fresen Medical Care settore medico sanitario credo faccia parte del DAX questo titolo faccia parte dei 40 del DAX qui c'è una chiarissima resistenza molto importante in area 50 perché questa era qua tutta una fascia di distribuzione che viene niente di meno dal 2019 è stata rotta al ribasso con volumi in aumento nel mese di giugno e ha dato correttamente il via a una fase ribassista imponente che ha praticamente dimezzato i prezzi fino ai minimi minari a 26 qui ora stiamo venendo su valgono le stesse considerazioni fatte poco fa nel senso che qui sì abbiamo superato la media 200 l'impostazione per il momento sembra incanalata al rialzo ma abbiamo una progressiva perdita di direzionalità quindi io mi attenderei un ritest delle medie principali con tutto un reset degli indicatori prima di partire per un'eventuale nuova gamba positiva quindi dal punto di vista tecnico questo movimento sta perdendo un po' di sostanza ecco e poi fermo restando che comunque 51 sarà un muro molto difficile da superare verso il basso attenzione a tutta questa fascia di supporto adesso fra la volatilità di stop line e la media 200 che io mi attendo nell'ipotesi appunto che l'impostazione rialzista si consolidi che mi attendo che tenga ecco in caso di ribasso in caso di test dei supporti in area 36 altra richiesta a Bonovia questo è un titolo finanziario sviluppo edilizio sempre Germania sempre un titolo abbastanza importante che in passato aveva dato buone soddisfazioni agli investitori anche qui abbiamo una grande zona di distribuzione che è stata rotta al ribasso aprile 2022 qua non c'è ancora un segnale di reversal chiaro diciamo che per il momento questo ecco già intanto il recupero qui di area 18 e 5 potrebbe essere un primo segnale positivo che era il primo minimo rotto il minimo fatto nel mese di ottobre che è stato rivisto al ribasso con questo spike di marzo con un valore importante di ADX quindi io qui per il momento ecco grandi segnali di forza non è che ce ne siano perché questo potrebbe essere un ABC che va a vedere la media 200 discendente dobbiamo vedere rivediamolo un po' più avanti vediamo un po' quale sarà il comportamento se e quando riuscirà a ingaggiare questa fascia di resistenza fra 18 e 6 e 25 perché qua ci passano troppe resistenze e troppi valori critici ultimo titolo Sol quindi torniamo in Italia impostazione buona ecco questo spike al rialzo con ADX buono l'amico ci vede una figura di consolidamento una figura di potenziale ribasso lui vedeva sulla scala daily un possibile test e spalle sì comunque c'è la conformazione di massimo arrotondato a prescindere dal test e spalle anche il massimo arrotondato è una figura tecnica abbastanza valida quindi anche qui io mi attenderei un test di area 22 poco soci diciamo tra la volatilità di stop line e la media 200 sempre nell'ottica dei famosi snap back cioè ricongiungimenti con le medie a più lungo periodo che soprattutto dopo fasi come queste vedete quando ci sono queste divergenze a V tra la media 200 e i prezzi ecco diciamo questi ricongiungimenti sono assolutamente normali fermo restando che l'impostazione generale di Sol resta positiva mancano pochi secondi giusto il tempo per augurarvi buona serata non perdetevi il video di domani perché abbiamo i dati sull'inflazione quindi domani ci sarà molto probabilmente volatilità grazie per l'attenzione grazie per i commenti appuntamento a domani grazie per i commenti